Trinità di Cosimo, Working Easy al Microsalon, le novità per questa occasione? Come novità presentiamo una nuova custodia per il Mix Sound Device, il T10, è una borsa che viene fatta su misura per il mixer con un sistema di ancoraggio all'interno di un tessuto altamente tecnico dove si può ancorare il velcro. Quindi di protezione ma allo stesso tempo traspirante? Esatto, anche traspirante con le varie uscite per le connessioni dei cavi laterali, come si può vedere, e anche con la tasca frontale per poter mettere i vari radio, con il bloccaggio delle antenne. Quindi questo è il bag ideale per il microfonista che fa la ripresa live dal vivo. Esattamente. Passiamo all'altra novità. L'altra novità è la borsa per la Canon 300-500, dove è studiata per poter alloggiare la camera con i vari contenitori all'interno per tenere le tre ottiche che si possono bloccare all'interno come uno meglio desidera. Con la diversa lunghezza delle diverse ottiche. E con anche la protezione per la loop. La borsa è leggera, pesa un chilo e otto, ed è con la doppia imbottitura, struttura rigida, resistente, e si può anche utilizzare come trolley facendo l'applicazione delle ruote. Con cosa concludiamo? Concludiamo con una borsa destinata agli assistenti alla regia, con una borsa per portare tutta l'attrezzatura. Qui si può utilizzare anche per un 6x6, con dentro i vari divisori rigidi, con tasche. Removibili. Removibili. Con un'ulteriore tasca che si può applicare sia sul coperchio che all'interno. Tutte le borse sono foderate con un materiale altamente tecnico dove il velcro viene ancorato ad altato inuta. Allo stesso tempo sento che molto spesso è rigido. Sì, esatto. In tutte le borse c'è la doppia imbottitura e supporto rigido all'interno. Che serve ovviamente per parare i colpi accidentali. Se comunque risultano leggere, questa borsa pesa intorno ai 2,5 kg ed è robusta, resistente e ha una durata almeno di 20 anni. Con questo è tutto qui del stand della Working Easy dal Microsalon di Roma. Antonio Franco, Trinità di Cosimo per DigitalProduction.tv